Mosca era in grandissima forma in settimana e ha fatto anche altre guardate, questo è mercoledì stanno parlando, ma c'è un problema Prassi, tu avevi azzeccato tutto c'è Mosca che sta ridendo, sentite non so perché che cosa stia succedendo comunque leggiamo i risultati delle partite di oggi prende tempo per farli smettere di ridere Gortiborg Bayern 2 a 2 qualificato Bayern Ajax, Basse, Ajax viene da ridere anche a lui sentite sottofondo, che non ride quasi mai inquadrate Maurizio Mosca ma perché? Guardate questo uomo completamente paonasto sta per esplodere di qualche capillare cos'è? non si sa perché e guarda come ride quest'uomo grandissimo i fratelli de Rege questa è televisione nessuno ha mai capito il motivo per lui si ricoverano tutti allora prendiamo una per il livello ma che cosa? allora andiamo alla pubblicità ecco pubblicità sta lacrimando quest'uomo ma pubblicità se è possibile ma se è possibile sì, è possibile sì, è possibile